Cosa si prova, William? Non ho mai fatto le scuole medie. Rendici orgogliosi di te. Ehi! Stai alla grande, eh? Anche tu! Caciocolo non è la scuola più facoltosa del distretto. Ma aspetta ognuno di voi decidere il proprio livello di impegno. Di impegno! Quest'anno le piogge sono giunte tardi. E per cui contiamo sugli alberi. Il Malawi dovrà affrontare una lunga stagione di carestia. Tieni a raccolti di singoli e camozzi pazzi qua. A cuore, a cuore, a cuore, a cuore, a cuore, a cuore! Il Malawi dovrà affrontare una lunga stagione di carestia. Il Malawi dovrà affrontare una lunga stagione di carestia. Che cosa intendi fare? Qualche novità? Una pompa! È scarica. Fammela vedere. Signor Cacicunda, quando la ruota della bici gira, la luce si accende. Come? Ci sono dei magneti. Posso trovare l'acqua. So farlo. Se arrestiamo, moriremo. No. No. Con l'elettricità possiamo piantare anche nella stagione arida. Sano. 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 è un'altra cosa che non si può fare. Non si può fare il mio figlio. Non si può fare il mio figlio. Non si può fare il mio figlio.